ciao a tutti oggi vi presento un libro di musica anche se il sottotitolo è rock e filosofia quindi siamo sempre in argomenti che peraltro a me ormai alcuni di voi lo sapranno interessano molto ho scelto questo libro anche diciamocelo pure per il titolo mi è piaciuto subito è l'arte di sfasciare le chitarre quindi il titolo subito mi ha preso ed è scritto da Stefano Scriva per le edizioni Arcana e Scriva è un musicista suonato in un gruppo dell'underground cremonese poi ovviamente si è laureato in filosofia e non solo e quindi insegna filosofia e quindi si è appassionato con un aspetto più professionale di quanto non sia il mio al rapporto tra filosofia e musica e lui nel parlare di rock ovviamente identifica la nascita del rock in qualche modo con un aspetto tragico nel senso classico della parola il rock anche per me è stato così il beat ancora prima ma il rock in senso generico dalla seconda metà degli anni 50 quando sono usciti i primi dissi biva palura il primo disco di al display da lì che tutto è cominciato poi dopo ovviamente i beat ma una musica di rottura una musica che ci portava a mettere in discussione diciamo da un lato la cultura il costume dei padri no e dall'altro lato ricercare una dimensione che in qualche modo nella quale potessimo riconoscerci noi giovani generazioni e questo è durato ovviamente per tanti anni non dobbiamo avere paura nel dire anche che il rock è morto no nel senso che lui stesso nel libro accenna a questo aspetto c'è c'è un'epopea c'è una curva storica che si esaurisce poi diventa qualche cos'altro ma la cosa fondamentale è studiare in qualche modo capire quello che il fenomeno rock nel pieno della propria esistenza che è durata una curva che è durata grosso modo una cinquantina d'anni che cosa che cosa ci ha dato quindi lui analizza citando anche mettendo in relazione eraclito per esempio con jimmy hendrix nice con i queen facendo vedere cose di questo rapporto di questo genere indaga anche un po l'aspetto appollineo da un lato e dionisiaco dall'altro per citare ovviamente due luoghi del pensiero che hanno caratterizzato la cultura greca e quindi il contrasto la complementarietà ma anche l'opposizione tra queste due dimensioni l'apollineo che ricerca l'armonia quindi la solarità la precisione il progetto la norma e quindi le cose diciamo così regolari e il dionisiaco che invece è lo scombusolamento l'esagerazione no che come sappiamo nella storia del rock ha portato tanti a lasciarci la pelle diciamola pure in modo crudo però queste dimensioni contraddittorie che poi si arricchitano anche di altre contraddizioni quando rock diventa un elemento di consumo e diventa un prodotto industriale e molto spesso fatto a tavolino ecco e quindi lui analizza un po attraverso vari autori e vari filosofi che mette in relazione questo questo aspetto contraddittorio ma assolutamente vitale che rock ha portato se non porta ancora ciao a tutti grazie a tutti